Buongiorno o buonasera. Questa settimana la nostra pillola di antropologia tratterà di un tema particolare e interessante che è quello dell'antropopoiesi, delle mode antropopoietiche. Partiamo prima di tutto da cosa significa antropopoiesi. Antropopoiesi è un termine particolarmente complesso ma con un significato semplice che significa costruire umanità. C'è antropos e poiesi e quindi l'atto di autocostruire il corpo attraverso delle pratiche di modificazioni corporee o quantomeno. Questo è uno dei significati che si può dare ed è quello che interessa a me in questo momento. Ovviamente siamo debitori soprattutto a due grandi antropologi, uno già citato più volte che è Clifford Geertz e l'altro è Francesco Remotti che si è occupato proprio di approfondire il significato di questo termine negli ultimi anni della sua ricerca. Quindi dicevamo, antropopoiesi, costruire il corpo. Una cosa che appartiene a tutte le culture umane, le tante differenti culture umane disseminate nel mondo, è quella che nessuno accetta il corpo così come la natura ce lo dona, cioè così come è quando nasciamo. Tutti noi decidiamo, a seconda di appunto il luogo geografico e culturale dove cresciamo e viviamo, di modificare in un determinato modo il nostro corpo. La modalità antropopoietica è una delle attività che maggiormente, potremmo dire, qualifica la cultura umana, oltre a quella abitativa, ecologica, culturale e religiosa. È una delle specifiche modificazioni che noi apportiamo che ci rappresenta come animali umani. Abbiamo già visto che l'essere umano, sempre secondo Francesco Remotti, Clifford Geertz e tanti altri, è un animale biologicamente carente. Colma questa carenza proprio con la creazione culturale. E l'antropopoiesi è un modo appunto di costruire il corpo con delle specificità culturali. Quindi vediamo che sostanza e apparenza, in questo caso, diventano meno lontano tra loro di quanto normalmente siamo portati a pensare. L'abito non fa il monaco. In realtà, da un punto di vista antropopoietico, come noi costruiamo l'abito che indossiamo, fa quello che siamo nella sostanza. La sostanza, ci dice Francesco Remotti, è già nell'apparenza. E l'apparenza si carica di significati importanti e decisivi, tanto da divenire essa stessa una sostanza. A quanto pare, se abbiamo capito questo discorso della costruzione del corpo umano attraverso delle modifiche corporee culturalmente accettate, significa che le società umane appunto si rifiutano di accettare il corpo così com'è. E lo modifichiamo con ogni mezzo tecnico, con ogni materiale. materiale, qualsiasi cosa diventa buona per modellare, trasformare, cambiare il nostro corpo. Non vogliamo lasciare il nostro corpo solo con il suo sviluppo naturale. Anche nella società in cui il corpo è lasciato praticamente nudo, quindi spogliato dai vestiti che noi occidentali siamo appunto abituati a metterci, in realtà una qualche operazione di aggiunta o eliminazione viene solitamente eseguita. Adesso, proprio per ripassare, per fare un super riassunto anche di quello che ci dice appunto Francesco Remotti nei suoi testi dove analizza approfonditamente il discorso delle modi antropopoietiche e poi nei commenti ovviamente lascerò una piccola bibliografia di riferimento, voglio fare una piccola, un piccolo elenco di categorie delle modificazioni corporee. Così da capirci come ci accomunano nelle varie differenze di come le operiamo, però tutte le culture umane appunto modificano il proprio corpo. Partiamo da una categoria molto semplice, che è quella di costruire oggetti esterni e indossarli, però poi li possiamo anche togliere dal corpo, quindi un'attività reversibile. Che cosa sono gli oggetti esterni? Per esempio monili, per esempio anelli, appunto collane, vestiti, camice, pantaloni, scarpe, cioè oggetti che noi mettiamo sul nostro corpo. Quindi già questo è una moda antropopoietica, cioè è un modo di costruire umanità particolare. Un'altra categoria interessante può essere quella di togliere la sporcizia dai nostri corpi. Il grasso, gli odori, cioè ci alziamo la mattina e ci laviamo, magari non tutti, ma la maggior parte delle persone una volta ogni tanto, se non quotidianamente, si lavano. E quindi questa è una pratica chiaramente che ha a che fare con una scelta di modificazione corporea, perché potremmo lasciarcelo lo sporco e il grasso. Quindi anche questa è categoria reversibile ovviamente. Terza categoria è quella di spalmare e dipingere sulla superficie esterna della nostra pelle qualche cosa. E quindi attraverso lo spalmare delle creme o delle tinture dipingiamo il nostro corpo. Anche questa è un'attività reversibile e se ci pensate appartiene a tante diverse pratiche e ce ne sono appunto mille possibilità, dalle creme che ci mettiamo per la cosmesi alle invece le tinture che possiamo fare per dipingere il nostro corpo momentaneamente. Quindi sempre reversibile. Altra categoria quarta è quella di modellare invece degli elementi organici esterni che crescono dal corpo. A che cosa mi riferisco? Al tagliarsi le unghie, al tagliarsi i capelli, a depilarsi, tagliarsi i peli. Pensate che come cambiano le mode antropopoietiche, come cambia il pelo sul corpo maschile o femminile a seconda dell'epoca e a seconda delle culture. È giusto o sbagliato avere i peli? Beh, dipende dalla costruzione culturale che se ne fa. E quindi anche questa è una moda antropopoietica sempre reversibile. Una quinta categoria è quella dell'azione dall'esterno che modifica la cute e il tessuto muscolare. Quindi che cosa possono essere? Per esempio l'attività culturistica, il bodybuilding, uno sport, uno sport agonistico che va a modificare il nostro corpo a seconda dell'azione che noi facciamo. Oppure i massaggi. Anche i massaggi possono essere un modo per modellare e costruire il corpo. E quindi tutte queste cinque categorie che abbiamo elencato sono reversibili. Ora vediamo quelle irreversibili. Beh, possiamo partire da una abbastanza nota che è quella del modificare dall'esterno per modificare appunto le strutture osse. A che cosa mi riferisco? A crani schiacciati. Ci sono tantissimi luoghi dove possiamo andare a visitare appunto necropoli e vedere come ci sono stati parecchie culture che schiacciavano il cranio durante la vita per modificare l'aspetto del nostro corpo. Oppure i piedi ridotti, i famosi piedi ridotti in Cina. O i toraci assottigliati. Un'altra categoria, quindi la settima, sempre definitiva, è quella invece di fare delle modifiche all'interno della cavità orale e quindi l'immatura avulsione dei denti. Una ottava categoria è quella del perforamento o l'inserimento nel corpo di oggetti esterni. Piercing, orecchini e tutte queste cose appunto che comunque non sono in realtà definitive veramente perché le possiamo staccare ma rimane la cicatrice. Quindi comunque sono perforazioni. Anche questo ovviamente è una modificazione corporea evidente. Poi ce n'è un'altra che conosciamo benissimo che è quella della penetrazione sottocutanea di sostanze coloranti, i tatuaggi. Pensate anche qui come cambia. Potremmo parlare per ore soltanto di questo. A seconda del periodo storico, l'accettazione oppure no del tatuaggio e come si muove geograficamente il tatuaggio. Oppure un'altra categoria sono quelle dei tagli profondi dell'inserimento di sostanze e quindi cicatrici che producono disegni. Anche questa è un'altra pratica diffusa in varie parti del mondo. E poi c'è un'altra categoria, quella che potremmo dire che è una sfida al senso morale e alla comprensione intellettuale, che è quella della chirurgia genitale. E quindi modifiche chirurgiche di organi genitali che siano maschili o femminili, subincisione, circoncisione, intraccisione vaginale, escissione della critoride, infibulazione. Tutte queste sono categorie particolari ma che sono diffuse in varie parti del mondo. Dodicesima ed ultima categoria che voglio analizzare in questi dieci minuti, in realtà un pochino di più di pillola di antropologia, è la chirurgia estetica moderna. La chirurgia estetica moderna ovviamente è una pratica antropopoietica, ma ha delle differenze rispetto a tutte le categorie che abbiamo visto fino adesso. Ha delle differenze che sono tendenzialmente due principali e che mi interessa raccontare. La prima è quella che a differenza di tutte le altre categorie, la chirurgia estetica nasconde il cambiamento, cioè la modificazione. Cioè quando io mi perforo l'orecchio per fare un piercing, è evidente che lo voglio mostrare. Quando io mi tatuo è evidente che lo faccio per me, ma lo faccio perché questa cosa sia visibile, se no non la farei. Ecco, la chirurgia estetica è chiaro che la voglio mostrare, ma non voglio che sia palese. Nel senso che quando io mi rifaccio il naso o mi rifaccio le labbra, faccio in modo che sembrano naturali. E che quindi le persone non capiscono che in realtà ho le labbra rifatte, ho il naso rifatto, ho un seno rifatto. E quindi c'è un nascondimento. E poi l'altra cosa è il non voler sentire dolore. Quindi la medicalizzazione, l'anestesia per fare la chirurgia estetica. Tutte le altre pratiche che abbiamo visto, il dolore è centrale. Provare il dolore è un momento importante della pratica di modificazione corporea. Invece, nella chirurgia estetica, si cerca di anestetizzare questo dolore perché è qualcosa che non ha più a che fare con un rituale di passaggio che ci porta appunto in un altro luogo dopo aver fatto quella modificazione corporea. Quindi insomma, la chirurgia estetica anestetizza il dolore, nasconde la modificazione, come abbiamo capito appunto, e si tratta di creare una naturalità finta, culturalmente perseguita, artefatta, ma che diventa quasi più importante della naturalità stessa e quindi del fatto che il riconoscimento della fiction non avvenga. Questo insomma era un pochino per raccontare quello che è il concetto delle mode antropopoietiche e in generale del antropopoiesi, quindi del costruire umanità e del fatto che universalmente nessuna cultura accetta il corpo così com'è. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Grazie.